Quanto sono? 0-0? Buongiorno! Vieni là! Vieni là! Vieni là! Occhio a Sonny! Grande Loris! Putra! Temenissima! Mi chiede! Dai Caglio! Dai Michael! Dai! Vieni su, vieni su, vieni su Adesso, sulla fascia Bravo Gabri Dai Vicky Dai Vicky Dai Vicky Dai Vicky Scarica Dai Togero Va bene, dai, va bene Quanti è questo? L'undici Vai A me, l'undici Bravo Sonny Che Gio Dai Sonny Dai Caglio Dai Dai Dai, vai, vai Passala lì Dai Uomo Ah, va bene, vai, dai Ricuperiamo, dai, bella Maiko Ragiona Va bene Dai Vicky Copri Paolo, copri Paolo Copri Paolo Dai, 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 da, 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 da Dammi, 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 dammi Madonna Pesca cazzo Ma sei proprio giocato E' due Sono due Ti dai miei occhiali Che ci fai tu qua? Ah ecco Bene Sono due Sono due Sono due Bella Vai Tomer Bella, va bene Ma le ciocciate sono? Sono di sola E' la madonna Vai, vai micchi Bambi È tornata la faccia Tu cazzi qua No, no, no Pauro a me Pauro a me No, pia, non cadere Dai ragazzi Dai ragazzi Arriva, arriva Non c'è, non c'è Mano Si, così Che tira bene Sam Non c'è Non c'è Non c'è Sì, ma niente Non c'è un centrocampo Sempre passi Passi Sì Passi Non c'è 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 Ciao No Dai, dai Dai, dai Sei tenis Dai, amici Dai, Tomas Dai, Tomas Dai, Tomas Dai, Tomas Dai, Tomas Ognuno è suo Dai, Kaiju Alpo sei No, cos'è questa roba Oh, male male Porca di quella Di tua sorella Lei, vedi Dai, Vedi Dai, Vedi Dai, Vedi Dai, Vedi Dai, Vedi Dai, Vedi Hai visto, Peppino Usciamo Fuori Aiuta Tornate, ragazzi Dai, Chris Dai, bravo Scusate Scusate Uomo Dai, Mickey Dai, Mickey Dai, David Dai, David Dai, David Saliamo Benvenuti Benvenuti Carica 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 Bravo Vedi Uomo Ragazzi Scappiamo Via Buonte Lloris Ciao Benvenuti Grazie Se ti fa male Esci Quanto cazzo Poi Vedi Benvenuti Vedi Brava bravo capri di nuovo maico dai vai 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 ciao 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 la partita non tempo attaccolo devi spinto dai Michael keep it clear the missile infantile va di là e di qua metti di là e va di là dai dai ragazzi dai 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 solo 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 vai vai bravo 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 vai dai 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 vai vai Dai, fai il top! Dai, Michi! Dai, Michi! Dai, Michi! Dai, Michi! Ok, non dublare, senti immersioni, se no, non è fine. Però vale! E passa questa stralla! Carica, scarica! Le battute! Guardi! Guardi! L'ABC! Giusto! Solo! È il numero di sei! No, io vado a dire! Come vuoi? Salsiccia! Quello che avevi fatto tu l'altro? Salsiccia, scamorza, 10 cioccolite! Quanto fai? 40 di tempo! Damir, Damir! Due così e uno! Oh, Camilo! Dai, Michi! Dai, Michi! Beh, bello, bello! Dai, Damir! So! Occhio! Di nuovo! Dai, Damir, salita! Dai, Damir! Dai, Damir! Dai, Damir! Vieni! Vieni! Bella, bella! Ma, Samir! Dio santissimo! vai Lory, vai Lory, non passa bravo Lory di nuovo Lory bravo vai Mimmo, vai Mimmo vai, vai Davis, vai bravo Staglio vai Mimmo 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 il capo è un po' morto si scrive tutto ma lo è che? beh però c'è da ammirare eh vincarca c'è da ammirare vieni a controllare, a vedere bravo no, scarica eh ciao 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 vai dentro vai dentro vai dentro bravo 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 il portiere bravo il portiere bravo il portiere bravo ma che ci hanno mandato? dai miei è più bello quello di Erika dai Samu, dai Samu, aiutatelo dai ragazzi andiamo ragazzi, andiamo occhio Giuseppe occhio taglio bravo Capri scarichi, scarichi dai dai da di là occhio ah Tommy dai è bello, la metti in difficoltà dandogliela così la metti in difficoltà dandogliela alta così dai Michael chi è Michael non è andato Michael mamma mia meglio però ciao Ferri dai Micchi dai Crise dai Michael ma no così non puoi buttare via le palle così ma giocalo questo pallone dai Giuseppe bravo Giuseppe bravo Giuseppe e se non gli può dire gira 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 bravo bello bello dai Micchi dai Micchi dai stai meglio di più no stai meglio di più no 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 stai meglio di più dai ragazzi dai 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 sì no ma sì sono i minuti si è tedesco ma ecco dai bello occhio e' come us occhio bravo dai crisi bello bravo tutti bravo 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 salite bella dai 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 fuori fuori dai fischia dai 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 il terzo il terzo, di più del terzo